Il live show con il nostro chef Andrea Mainardi sta per iniziare, vi invito quindi a prendere posto che siamo quasi pronti insomma per assistere a questa esibizione di cucina davvero eccezionale. Prendete posto così poi mi raccomando, c'è un motivo se si può dire ancora in più per partecipare a questa manifestazione perché non solo avremo l'occasione insieme di assistere al lavoro di un grandissimo chef che ci farà vedere come si lavora in una cucina, come si può valorizzare al meglio il prodotto che conosciamo bene, quelli che sono i prodotti trentini, ma in più grandi sorprese, grandi omaggi per voi, gratis ovviamente se sarete attentissimi al suo lavoro. Allora vi aspetto tra pochissimo, prendete posto e mi raccomando immagino vedrete se non avete appetito vi arriverà subitissimo perché sono sicura sentiremo dei profumi inebrianti. Grazie. 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 Siamo quasi pronti allora per iniziare, vi prego di avvicinarvi che lo show sta per cominciare. Oggi e domani si inaugura una fiera bellissima dedicata al prodotto tipico, dedicata al mondo contadino anche se vogliamo grazie agli espositori di prodotti biologici a chilometro zero che possiamo visitare negli stand espositivi che ci sono lungo la strada. Non solo mondo contadino ma anche prodotti d'eccellenza del Trentino che spazzano davvero dalle birre ai vini, ai prodotti ittici legati anche ai fiumi e ai laghi del nostro bel Trentino. Le farine, le marmellate, il miele, le conserve sono veramente infinite le possibilità di degustare delle specialità. Ho accolto molto volentieri l'invito che mi è stato fatto ad essere presente a questa manifestazione. Io sono Aurora, sono una food blogger del blog getready.net, sono quindi una grandissima appassionata di cucina come penso anche voi. Di solito il pubblico che viene richiamato da queste occasioni ha questa sensibilità verso i prodotti tipici. Figuratevi poi quando mi hanno detto che avrebbe partecipato cotanto di chef. Un po' di vergogna, un attimo che ho il microfono. Buongiorno ragazze. Chef Andrea Mainardi. Una volta. Signora comunque dalla clerici non ci vado da quattro anni però apprezzo che mi ha sempre seguito Davide. E lo so adesso sono cotto e mangiato che le ho già viste le mie fanno. Sappiate che io sono fortissimo dai 70 ai 120. Sotto non le guardo neanche. Guardatevi solo un secondo. L'abbiamo imparato a conoscere Chef Andrea Mainardi appunto per le sue partecipazioni televisive. L'abbiamo visto in tantissime trasmissioni nelle quali è stato anche vero e proprio protagonista come ci pensa Mainardi. Ospite alla prova del cuoco come abbiamo detto e co conduttore attualmente della rubrica cotto e mangiato insieme a Tessa Gelisio. Ma dovete sapere e sicuramente chi lo conosce lo sa lo sa assolutamente che ha una lunga carriera professionale che l'ha visto spaziare in un viaggio diciamo metaforico che è partito da Brescia ed è arrivato fino a New York e ritorno. Vero Andrea? Sì diciamo che neanche mia mamma mi avrebbe presentato così bene quindi ti ringrazio. Vabbè diciamo che la televisione è arrivata insomma qualche anno fa io volevo fare l'imprenditore cosa non so se mi è riuscita molto bene però sto dando il massimo con il mio ristorante con un solo tavolo che ho aperto a Brescia. Come un solo tavolo. Cioè venite in due ristoranti al completo e quindi insomma da lì è iniziata un po' la mia carriera però insomma dalla scuola alberghiera. Infatti ci tenevo un sacco perché il mio percorso parte comunque dalla scuola alberghiera come un po' questi ragazzi che sono qui nelle retrovie adesso che si vergognano tutti belli. Ci sono, ci sono del CFP di Tione di Trento fate un passo avanti ragazzi ci sono anche i professori perché diciamo che insomma il futuro poi se volete mangiare bene passa anche da lì quindi insomma teniamoli buoni questi ragazzi. Guardi lì. Ma possiamo far avvicinare anche i cuochi perché sai che io sono più da... No, sai com'è? Saluto anche i miei amici che sono fuori dalle transegne che io bellamente ho invitato ad entrare ho fatto una figuraccia come al solito ma sono fatto così dai non abbiate nei miei confronti. E niente, partito dalla scuola alberghiera e come al solito gli stage e i vari giri nei ristoranti stellati perché comunque quella era un po' la mia vocazione per imparare quindi ho fatto viaggio all'estero ho cercato di apprendere un po' da... Hai lavorato anche con Gualtiero Marchesi Quattro anni da Gualtiero Marchesi c'era con Bertone grande chef uno dei miei maestri finché poi mi sono spostato ho voluto aprire un po' la mia attività a 23 anni insomma ho iniziato così ho preso un appartamento in affitto una cucina comprata su ebay usata e da lì è partita la mia idea di impresa Quando c'è talento basta poco No, però insomma io dico quello che penso per voi ragazzi è il fatto di averle idee ben chiare cioè voi siete iscritti in un centro professionale perché avete le idee ben chiare anche io ho stato in una statale alla scuola alberghiera di San Pellegrino Termi, provincia di Bergamo perché averle idee chiare oggi vi fa andare avanti di almeno 3-4 anni rispetto a tutti gli altri cioè io volevo fare il cuoco e lo porto avanti negli anni cioè io ho 38 anni comunque ho già fatto tantissime esperienze questo secondo me avere le idee chiare oggi è una cosa più unica che rara e poi c'è il lavoro di professori con i quali io ero un po' disgraziato perché non mi piace potete immaginare che non ero proprio lo studente modello che comunque il lavoro che portate avanti voi sicuramente è una cosa molto importante detto questo torno a fare simpatico è arrivata la chiamata della clerici però due robe devo dirvele vi ricordo c'è qualcuno di voi che si ricorda di Mainardi alla prova del cuoco nel 2012 la prima rubrica si chiamava il diavolo e l'acqua santa cioè guarda cioè a parità di ingredienti io facevo la cucina quella mia un po' molecolare piatti così porzioni così gelatine e una volta ero giovincello ma siamo con le robe un po' un po' pazzesche e dall'altra parte purtroppo la sua stella che se ne è andata l'anno scorso faceva la cucina nel convento quindi polpettoni quei piatti belli belli ruspanti belli nostrani come piaceva a fare a noi e la clerici mi ricordo guarda Andrea poi non ci conoscevamo le prime puntate non ci conoscevamo ancora bene guarda Andrea per rendere un po' accattivante questa rubrica magari durante la ricetta facciamo partire una musichetta e tu con quella musichetta prendi un vassoietto simpatico carino con un bel bicchierino finto con un finto cocktail e lo porti alla sua ora perché eravamo nelle cucine il peperone e il pomodoro quando c'era la prova del cuoco io sono bergamasco cresciuto a latte e grappa anche se ho visto che qua comunque sono messo bene perché qua il caffè non si beve ho già visto birra e vino sono in buona compagnia eccolo là bravissimo quindi voi immaginate la prima puntata ero emozionatissimo non mi uscivano le parole dalla bocca mi tremavano le mani quindi la mia testa era concentrata più nel far bene e nello studiare i passaggi della ricetta devo essere sincero quindi mi è molto in mente devo fare il cocktail ma da buon bergamasco come quando lo faccio nel mio ristorante era un Cuba Libre ho messo penso più rum di Coca Cola una roba del genere no ma è seria poi è stata detta un po' negli anni e morale ve la faccio breve se no stiamo qua una settimana poi cuciniamo sul serio parte la musichetta porto il vassoio alla sua ora col cocktail lei tira via la cannuccia adesso di un bicchiere così ne avrà bevuto due dita finisce la trasmissione e Antonella diceva tutti a tavola dove il cuoco di ogni rubrica portava il proprio piatto in mezzo al tavolo e vi auguravamo buon pranzo e poi si finiva la puntata poi partiva il TG tutti a tavola sparita la sua ora no storia vera non ve la sto romanzando tolgono i microfoni mia madre mi ha lasciato una roba i miei genitori il rispetto la riconoscenza soprattutto per le persone più grandi immaginati di una sua ora quindi spengo il microfono vado a cercarla sua stella era dell'ordine delle francescane quindi insomma recitano il rosario piuttosto frequentemente la vado a cercare lei era fuori su un divanetto su una panchina fuori nel giardino come potete essere voi qui seduta e io pensavo stesse pregando non pensavo che fosse un po' tuonata quindi vado lì le busso sulla spalla la sua stella grazie è stato un piacere disgraziato morale per due settimane non è venuta poi ci siamo rivisti poi ecco questo è stato un po' l'inizio alla prova del cuoco poi vabbè ci pensa Mainardi tra due fuochi l'esperienza del grande fratello grande fratello VIP nel 2019 quando poi mi sono sposato fortunatamente è andata bene e adesso sono da due anni a cotto e mangiato con Tessa e Gelisio sia durante il telegiornale che appena dopo appena dopo il telegiornale facciamo queste ricette davvero fighe e giriamo l'Italia raccontando insomma le eccellenze magari anche a volte spesso poco conosciute del territorio lì Andrea è stata un po' anche la tua evoluzione perché da chef anche conduttore diciamo che il mio lavoro principale è la ristorazione dove ho un catering cioè il cucino sul serio perché poi in televisione sembra che faccia un po' mi diverto però insomma diciamo che comunicare con la cucina è la mia missione ed è quello che voglio fare oggi cominciamo a distruggere un po' di miti c'è Alexandra che vuole subito parlare perché è una grandissima cuoca no sto scherzando allora Aurora io ci sono i ragazzi guattoli belli magari vi faccio cucinare dopo ci penso adesso un attimo se siete ancora in botta da ieri sera voi allora microfono un bel gelato Andrea soprattutto delle signore quelle giovani che è la mia specialità là davanti c'è quella col bastoncino là che la vedo bella carica allora andiamo subito allora signora oggi facciamo due piatti rapidi non è vero perché devo tenervi qua fino alle tre del pomeriggio tanto non ci avete un cazzo da fare sto scherzando allora eccola qui la signora no no è quell'altra vestita da festa che ha messo sono anche il tacco oggi guarda l'avevo vista io eccola qua signora mi ha stalkerato da stamattina alle 10 e adesso io faccio sto scherzando signora mi racconta come si fa un risotto lei è di queste parti? meno male lei di dove è signora? sono da tutta la tua parte predizione ah predizione lei cucina spesso il risotto? sì benissimo mi racconta un suo risotto tipo come si fa in tre parole soffritto olio burro e cipolla riso e vino bianco aspetta 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 è ancora così fretta quindi fa il soffritto con la cipolla anche mia mamma usa olio burro perché ti fa il soffritto solo col burro cari amichetti miei è più difficile cucinare col burro perché ha un punto di fumo piuttosto basso e si rischia di farlo bruciare in un secondo qui la tecnica sgamata dalle mamme e dalle nonne è quello di aggiungersi di aggiungersi un goccino di olio esatto un po' paracula come cosa in modo che si alzi i punti di fumo così non si brucia quindi fa un bel soffritto con la cipolla ci aggiunge il riso il riso lo tosto per qualche minuto la moglie di cracco qua avrà la signora la vedo così bella lo tosta e poi cosa fa? poi metto il vino bianco abbondante lo faccio sfumare e poi comincio a aggiungere il brodo non di verdure non vegetale se non si incazzi signora no perché adesso va di moda il vegetale io sinceramente preferisco quello di carne qualcosa di più sostanzialmente di carne ma se non ho la carne uso il dado dico la verità non è che vado a cercare comunque va tutto bene signora anche perché ho visto che ci sono dei produttori che fanno dei dadi vegetali è molto non con glutammato ma con tutte cose naturali so che c'è un produttore che poi magari appena abbiamo finito andiamo a visitare io l'ho già assaggiato a dire che non è niente male però a fine quando è quasi no 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 come si chiama signora? Iva Iva come la zannicchi Iva ah se vivrete qua tra i tempi ok il prezzo è giusto Iva ma il brodo lo metti tutto insieme poco alla volta no no poco alla volta e fare evaporare tutte le volte poi aggiungere possiamo portare un bicchiere di vino alla nostra amica Iva perché la vedo non è ancora sotto effetto dello spritz qui ok quindi brodo poco alla volta ma mi sentite bene voi? meravigliosa brodo poco alla volta e poi lo porto a cottura quando arriva quasi alla completa cottura aggiungo adesso da un po' di tempo che metto la robiola aspetti signora vengo da Bergamo abito a Brescia mi hanno chiamato per qui all'Ecofiera Food Experience a Tione con i prodotti a chilometro zero che robiola userà una robiola mi racconti qualcosa perché qui ho dei formaggi pazzeschi straordinari qui dalle zone che utilizzerò oggi quindi mi dica una roba no no quella più morbida quella che si compra anche al supermercato che è già nei contenitori di plastica ogni lo tolgo lo tolgo signora siamo Eccofiera qui magari cerchiamo di eliminare un po' di nel senso la signora stava dicendo che anziché comprare al supermercato oggi e domani fate un giro a Tione che oltretutto è abbastanza vicino da Brescia un'oretta è comunque comodo venire qua se non trovate un pulmino davanti fate un bel giro con i vostri pareti con la vostra famiglia sono un sacco di produttori un sacco di banchetti che si possono degustare un sacco di cose giusto signora? esatto meraviglioso la ringrazio ok e poi è il momento di mantecarlo quindi spegno il fornello se no non finia più spegno il fornello aggiungo la robiola una bella mescolata che si sciolga ben bene si sta guardando cosa intendeva mescolata col cucchiaio di legno bella e poi alla fine grana naturalmente formaggio grattugiato due bei pugnetti di formaggio grattugiato e voilà cremoso all'onda all'onda allora signora io voglio fare un regalo visto che comunque è stata così gentile allora guardi cosa faccio guardi i nostri produttori mi hanno messo a disposizione un bel po' di cose e giustamente a chi di voi mi racconta un po' insomma risponde a qualche domanda un piccolo pensierino adesso sicuramente alzerete tutti le mani eh comodo adesso allora signora visto che mi ha parlato di formaggine adesso le do un bel formaggio qua questa è la vera espressa nostrana si stai calma sto a distanza un po' per il covid perché è un attimo che sono i nostri amici di facebook della diretta che se no non mi vedono l'ha assaggiata ancora è buonissima lo faccio un risotto con questa signora davvero mi piace come testimonia la signora possiamo prenderla signora e poi visto che la vedo un po' troppo tranquilla le do anche la birretta bella artigianale qua dal posto ma grazie è troppo gentile no non può berla adesso facciamo un po' di pubblicità progresso bene facciamo un applauso a Iva bravissima allora non è che sto facendo lo scemo così perché voglio farvi fare due risate vi ricordo che faccio anche il cuoco quindi vorrei darvi qualche input perché secondo il mio punto di vista troppo spesso cuciniamo perché ce l'ha insegnato la mamma o la nonna facciamo dei gesti automatici grazie non mi ha la parola sono qui a posto no ti ringrazio infatti a volte mi manca qualche pezzo sono rimasto sotto qualche no sto scherzando quindi dei gesti automatici e adesso cara Iva senza che tu ti arrabbi perché andare a toccare la tradizione mi cade anche il ciuffo quando dico queste cose quando vai a toccare la tradizione no eccola la signora urco l'ho vista la mia Anna Moroni di oggi allora cominciamo a fare il risottino innanzitutto partiamo da una cosa da una cosa tecnica ci sono anche i ragazzi lo faccio per la famiglia per mia moglie mia figlia e una cosa che ho ereditato da mia mamma che tengo anch'io è il fatto di cucinare il riso in padella anziché in una casseruola ma in ardi e adesso vi spiego perché non parto con il soffritto state attenti a cosa combino e innanzitutto c'è qualcuno di voi che io Aurora starei in mezzo al pubblico così benissimo così facciamo sai cosa mi fai un grande favore perché io non pensavo che oggi tu mi facessi fare le scale quindi malauguratamente mi sono messa una scarpa non adatta quindi sto volentieri qui aspetta che ci sono anche gli sposi ragazzi a Tione si sposano anche chi è che sta palaudendo allora cerchiamo seguite ah bravo bravissimi mi siete piaciuti così allora seguite un po' quello che sto facendo io ho messo del riso semplicemente in padella non metto non faccio soffritti non lo faccio manco tostare prendo del brodo che gentilmente i ragazzi della scuola mi hanno fatto ancora con i dovuti crisi mi vedo un sacco di verdure però rassicuriamo la signora Iva è un brodo di pollo non sono solo verdure allora diciamo che io oggi cerco di insegnarvi un metodo nuovo per fare il riso e la pasta dopodiché i gusti delle vostre famiglie è una scelta vostra se lei usa il brodo vegetale il brodo di pollo il brodo di carne a me tra virgolette interessa poco io adesso parlo di brodo in generale poi i gusti se io uso il porro lei usa la cipolla la signora usa lo scalogno è una scelta vostra quindi provo di insegnarvi questa tecnica molto carina che matrimoglio di livello qua non possiamo farle venire qua il catering lo facciamo noi tanto i ragazzi ce li abbiamo i professori quelli che cucinano sul sedio ce li abbiamo il servizio di sala è perfetto? no? allora io il brodo anziché metterne poco alla volta lo metto tutto insieme già la signora si sta incazzando ed è la mia specialità salo subito e nell'altra pentola qua accendiamo al massimo e il vino non può mai mancare in un grande risotto siete d'accordo? l'unica cosa è che la mia mamma che sicuramente mi sta seguendo ciao mamma so che prendeva sempre delle bottiglie nuove e io non capivo perché so che per il risotto magari si usa qualche fondo lei cosa faceva? faceva e poi il resto lo portava a tavola mica scema? allora quello che hai detto non è molto gentile ah scusa è partito anche Siri quello che hai detto non è molto gentile mi ha detto hai qualche consiglio Andrea su che vino utilizzare per il riso? ah sicuramente il vino del posto ovviamente so che ci sono a proposito c'è anche la produzione ci sono delle cantine molto molto interessanti c'è Cantina Toblino che ha fornito il vino che stai utilizzando assolutamente diciamo che per comodità adesso ho usato una bollicina in verità perché mi sono dimenticato l'apri bottiglie ma questo è l'altro discorso no sto scherzando cioè quando cuciniamo ti dicono è un vino no usiamo comunque sempre un vino buono perché comunque dà sapore perché voi il vino lo mettete per dar sapore no perché volete berlo brava risposta esatta allora seguitemi mentre il riso sta andando per i cavoli suoi che sembra un po' il riso bollito dell'ospedale dall'altra parte metto il vino e la famosa cipolla vieni vieni qua la famosa cipolla che voi utilizzate nel soffritto è tritandola e piangendo lacrime versate quante lacrime avete versato con le cipolle a fiumi bravissimo io parlo per me a fiumi brava io adesso la taglio semplicemente a pezzi aspetta togliamola bene se sono cipolle le stagne queste quelle sono biologiche e vengono dal mercato contadino sono fresche fresche ti piace quando ti lancio la palla al balzo così bene allora quindi vedete senza alcun tipo di sforzo prendiamo le cipolle intere così a pezzettoni e le lanciamo dentro il vino fin qua tutto chiaro vedo qualche signora che storcia il naso ed è questa è la mia specialità eccoci qua sicuramente è un metodo che io non avevo mai visto questo Andrea insomma cerchiamo sempre di è vero che siamo qua a divertirci è vero che siamo qui per raccontare i prodotti del territorio per far conoscere magari ci sta seguendo anche sui social che magari abita molto più lontano quindi non conosce proprio il territorio cerchiamo di promuovere i produttori locali che si fanno un mazzo tanto ecco lì là che li vedo per portare a casa dei prodotti pazzeschi insomma noi dove possiamo cerchiamo di comunicare di portarli in giro per tutta l'Italia allora entra bene qua dentro per cortesia il sale lo togliamo allora guardate bene cosa sta facendo Maynardi il vino di Iva anziché buttarlo nel riso per sfumarlo l'ho messo in una casseruola e lo sto facendo cuocere facendo bollire con la cipolla cosa succede di cosa è fatto il vino allora chardonnay benissimo guarda l'ora ti piacciono queste cose interattive benissimo e ma acqua cos'è che c'è dentro raccontami dai che ti raggiungo eh brava posso fare i chilometri la nostra perfetto adesso che l'abbiamo persa possiamo far tra di noi bene allora Aurora sta andando dal nostro produttore il cantine Toblino e allora quello è un Antares un metodo classico trentino un chardonnay doc blanc de blanc vedo delle fasi che fanno così il succo cioè il mosto d'uva viene fatto fermentare in acciaio poi si fa una seconda fermentazione in bottiglia aggiungendo il lievito e la liqueur per 36 mesi benissimo ma tecnicamente di cosa è fatto il vino acqua cosa c'è dentro beh gli estratti dell'uva benissimo però dico lo zucchero che poi diventa alcol e CO2 meraviglioso benissimo la CO2 ovviamente nello stappallo va nella pentola sparisce l'alcol evapora e pian piano si riduce giusto riducendo cucina la cipolla la cipolla rilascia tutto anche perché se io dovessi mettervi dei pezzettini di cipolla così nel risotto poi stasera non potete limonare no non ci vuole una signora nel senso scusi mi è scappata questa signora madre di famiglia nonna non può fare queste frasi nel senso che vi rimane un po' l'alito avete già dato possiamo andare con il microfono dalle nostre signorine che sono pronte per uomini e donne c'è qualcuno che è single chiedo anche le autorità che mi stanno guardando malissimo stavo scherzando siccome che parlava di cose così io ho detto io ho già dato ci guardava come dire non danno più ha capito no non mi sarebbe permesso signora aurora vai un secondo della signora questa ha una risata un po' da tipo davanti un altro di bonolis la signora non parlo non parla non parla torniamo a noi quindi ascoltatemi bene adesso che sto facendo questa riduzione è una concentrazione di sapori voi immaginate l'acidità del vino il sapore della cipolla questa è la pozione magica con la quale io voglio mantecare il risotto alla fine perché vi chiedo cara Iva tu sfumi il riso col vino bianco come ci hanno sempre ci hanno insegnato ma la domanda è a fine cottura lo senti il sapore del vino leggermente si sente leggermente si sente se ne metti dentro un bel po' siate sinceri con me quella sfumatina che fa la mia mamma all'inizio psicologicamente perché qui si tratta anche poi di psicologia del cibo psicologicamente a chi non piace il soffritto di cipolla il riso col vino all'inizio è straordinario ma è ancora all'inizio della cottura a fine cottura con il formaggio con un grande formaggio di capra con dei porri con qualsiasi tipo di verdura che si è mettete dei funghi chi sente poi realmente il sapore del vino pochi quindi io mi chiedo il vino lo mettete per dar sapore ma se lo mettete per poi non sentirlo che senso ha allora cercate un modo differente di metterlo nel risotto per farvelo sentire e questo è uno di quei metodi adesso questo quando è ridotto abbastanza da una bottiglia di vino ne tirerò fuori un cucchiaio quindi una concentrazione molto alta tirerò via la cipolla e queste gocce le utilizzerò come essenza di vino e cipolla alla fine per mantecare il risotto per dargli lo sprint effettivamente sono furtivamente salita alle tue spalle c'è un profumo intensissimo bene questo adesso è quasi pronto torniamo nel riso allora guardatevi bene cara Iva tu mi hai detto che il brodo lo metti poco alla volta corretto? e la mia domanda è grazie Aurora ti faccio fare i chilometri oggi e la mia domanda è perché ne metti poco alla volta? non lo so risposta esatta cazzo scusate mi è scappata perché su alcune domande se io vi faccio le domande voi mi rispondete boh perché si fa così giusto signora? lei è una mascherina talmente potente che se me non riesce più neanche respirare bravissima la risposta esatta stavo anche inciampando questa è la risposta che volevo sentirti dire non lo so si fa così allora mi ascolti bene entriamo un po' nel tecnico mia madre che ha pagato i miei studi sono anche chimico e tecnologo alimentare si figuri cosa ha combinato nella mia vita se io le dico che il riso parliamo di un carnaroli normale per capirci non è invecchiato assorbe circa 3,2 volte del suo peso in liquido cosa significa? che 100 grammi di riso a fine cottura bevono assorbono 300-320 ml di brodo che sia brodo di carne brodo di pollo diciamo di liquido 100 grammi 300 un terzo ok? secondo lei il riso non è così intelligente secondo il mio punto di vista che tu ne metti un mestolino alla volta o lo metti tutto insieme comunque arrivi a fine cottura e a fine cottura comunque ci hai messo i tuoi 7-8 mestoli ma la differenza tra il tuo e il mio qual è? è che tu per i primi scusami io per i primi 10 minuti posso stare qui a chiacchierare con voi perché sembra il riso bollito dell'ospedale giusto? attualmente sembra il riso bollito beh tu invece stai lì a girarlo come dice la mia mamma con amore ma non è vero tu lo giri perché ti si attacca dove sono tutti i miei è vero giusto? mettendo bocco al brodo alla volta vi dà l'idea di fare un risotto più figo perché state lì 25 minuti ma io sono pro signore le signore so che voi fate 4500 robe in un minuto noi siamo da risotto controllato così e ci fermiamo lì voi mentre fate il risotto pulite la casa mandate le email per il lavoro andate a prendere i bambini a scuola giusto? voi siete multitasking noi siamo fatti un po' così ne facciamo due robe insieme se va bene quindi io mi chiedo perché state lì eh no perché è scemantecato molto meglio e qui entriamo nel tecnico poi finito di rompervi rompervi le scatole su questo argomento il tutto si basa su sto cacchio di amido che cos'è l'amido? senza guardare su google quizzone quizzone chi cos'è l'amido? chi è disposto a ricevere un bel regalo? fai le domande difficili però Andrea dai cos'è l'amido? fuori fuori sulle mani ecco 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 chi è che sta rispondendo? è uno zucchero bravissimo visto che parliamo di amido arrivo con la farina bianca di storo anche perché è di polenta vabbè sono bergamasco di polenta benissimo è uno zucchero grazie intanto la conosceva già nella cooperativa agri 90 ecco così qua bravissima perfetto però magari non mi faccia la fissura mi compro un altro pacco se no mi fa prenderò quella già prenderò quella già perché poi attivo il codice sconto mainhardi 10 che facciamo un giro non è vero però bello scusatemi è zucchero in verità l'amido è uno zucchero complesso una molecola di amido sono mille molecole di glucosio per entrare nel tecnico cioè zucchero con la differenza che lo zucchero sulle mani qua eh che lo zucchero ha un potere dolcificanto e l'amido ha un potere astringente signora quando mangio il limone poi mi faccio fatica l'amido ha un potere assorbente me l'ha detto la signora aspetta che arrivo l'amido ha un potere guardi signora le regalo questo tris di miele così stasera può fare delle tartine con dei formaggi pazzeschi io la spiego stesso perché da Brescia ci si muove da Brescia no giuro che non è mia parente non glielo ho regalato apposta prima che cominciate eh beh lei si tu no perché di Brescia no eh brava signora così la voglio ha fatto un bel giretto oggi ha visto va a casa col suo miele è venuta apposta è venuta a fare questi giri rimborso benzina alla signora per cortesia allora ascolta torniamo all'amido ha un potere assorbente diciamo che in gergo ragazzi si dice che l'amido ha un potere oh mi ammazzo l'amido ha un potere gelificante crea un gel diciamo che fa diventare cremoso qualcosa corretto? aspetta che se lo assaggio se no mi sputtano eh mi no sono ancora crudi qua l'amido di fatti Andrea si usa anche per addensare le creme bravissima allora la mia domanda è quando fate una besciamella con cosa addensate il latte? fermi questa è facile questa la so chi è che la sa? arrivo 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 in fondo con la farina signora se me lo dici con questa enfasi con la farina bravi risposta esatto ecco le sapere con la farina se io fossi intollerante al glutine come faccio adensare la besciamella? devi guadagnartelo questo salmerino alpino affumicato fecola di? patate sei brava però bene glielo porti tu dopo ora se no si mette una settimana quindi farina fecola di patate amido di mais farina di tapioca farina di magnoca quindi possiamo addensare un liquido con tantissime altre cose lo stesso nella crema pasticcera come si addensa il latte in una crema pasticcera si fa si sbattono i tuorli con lo zucchero si forma la cremina si aggiunge la farina poi si butta il latte è vero che nella crema pasticcera c'è anche la potenza del tuorlo che fa addensare leggermente il latte però diciamo che in generale l'amido in questo caso addensa e io ho pensato stai nel risotto ti chiami? Roberto Roberto grazie Roberto nel nostro service darò un applauso anche al service che sono là i due là si stanno abbronzando cioè il fonico si sta abbronzando sta prendendo solo gli altri due sono nella stanza nella black room c'è un modo per tirar fuori l'amido dal riso in modo che il risotto risulti mantecato e cremoso ancora prima di metterci grassi perché questo secondo me è il segreto per fare un grande risotto tanto l'amido che sia dentro il riso che esca tanto ve lo magnate lo stesso se invece trovo un modo per tirarlo fuori dal chicco cosa succede? l'amido addensa il brodo e io qua che sto facendo il risotto dell'ospedale guardate come piano piano riesce a entrare ancora un po' di più vedete vedete come le bolle del liquido cominciano ad essere bolle sciroppose vuol dire che il brodo si sta addensando con l'amido che è uscito dal riso e sapete quali sono le uniche due tecniche per far uscire l'amido dal riso? dopo dopo me non potevo dare qualcos'altro signora lì davanti so che lei vuol vincere il premio lo so la sento non ho capito bene la domanda nemmeno io signora qual'è la tecnica per far uscire tutto l'amido dal riso? prof mi sembra Mainardi nell'interrogazione di storia a scuola scena muta come si fa a far uscire tutto l'amido dal riso? cioè Alexandra lo sta cercando su google ragazzi incredibile abbiamo un concorrente fammi una risata Alexandra cioè Daniela lo sapeva guardala là hai visto gli effetti Andrea del vino al posto del caffè sa la risposta mi hanno consigliato prima di lavare con acqua fredda questa purtroppo è una grandissima sto cercando un sinonimo per essere gentile puttanata ascoltami guarda te l'ha detto te l'ha detto la fidanzata allora ascoltami bene c'è chi magari ha dei problemi diabete che magari deve mangiare un po' meno zuccheri allora giustamente comunque il riso quando lo prendi in mano ha quella farina intorno che è l'amido e lo si sciacqua per tirarglielo via è un modo che togli uno zero per cento una percentuale irrisoria ma è un po' Andrea scusami lo stesso meccanismo che si fa quando si vogliono fare le patatine fritte io sapevo che si tagliano si lavano per togliere un po' sono discorsi diversi perché nella patatina fritta togli l'amido per far sì che la patatina rimanga scusate il gesto croccante e aspetti non riesco a trovare le parole oggi signora so che lei quando viene è partita è partita perché se la patata è ricca di amido diventa 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 moscia e diventa scura perché lo zucchero brucia ecco perché si cerca una patata con poco amido e solitamente sono le patate novelle non le vecchie perché le vecchie hanno tirato via tutta l'acqua che hanno dentro è rimasta la concentrazione di amido più importante mentre le novelle hanno molta acqua quindi vabbè mi sono fatemi troppe domande un po' sbarello tu sciacqui il riso tiri via l'amido quindi fa più fatica a mantecare cioè lo mangi se fai un riso bollito perché sei un po' tra virgoletta dieta per mangiare qualche zucchero in meno io l'amido invece lo utilizzo per tirare il risotto e adesso ve lo faccio vedere prima che mi attacchi la prossima domanda però te lo regalo lo stesso allora vi stavo dicendo i due metodi per tirare fuori l'amido uno è non tostare il riso perché se vi chiedo cosa serve tostare il riso tutti mi dite per trattenere l'amido ma secondo me in un risotto mantecato l'amido deve uscire e tanti mi dicono tosto il riso per tenere il chicco al dente e oggi vi dimostrerò il contrario quindi non tostare il riso permette di mettendo tanto brodo tutto insieme come sciacquate i panni in tanta acqua si sciacqua all'inizio era bollito e tira fuori tutto l'amido guardate il risultato questo è solo riso e brodo guardate lo sto estremizzando allora diventa un pataccone se lo tengo così se lo voglio un po' più all'onda qui una scelta sua mette un po' più di brodo io adesso bisogna farvi vedere che riesco a mantecare un risotto anche senza aggiungere grassi poi i grassi li aggiungo perché io sono un golosone perché è il formaggio da gusto adesso aggiungeremo una formagella di capra straordinaria che gli darà gusto ma non metto il grasso per mantecare non metto quella famosa noce di burro che mette la mia mamma per mantecare quella nocetta di burro in un riso che c'ha dentro 2000 ingredienti chi la sente? ma perché signora lo mette? se mette un burro di malga giallo che sa di mucca che sa di formaggio sapore alla fine io metto un bel po' di burro alla fine ma perché lo mette? per saporirlo un po' benissimo se lei usa un burro dal peggio sono d'accordo ma la mia mamma che abita a Bergamo che usa il burro dallo bianco del supermercato che non sta né di me né di te lo mette perché nella sua idea si mette il burro alla fine cottura se c'è burro di malga è meglio se metto un grasso per dar sapore sono d'accordo se mette il grasso per mantecare il risotto non sono d'accordo sei d'accordo? anch'io sono così bravissima quindi se avete un burro dal peggio come quelli che troviamo qua dei nostri casari belli profumati che saranno in montagna poi queste sono le zone giuste allora lo mettetelo ma perché date gusto? se lo mettete per far diventare cremoso il risotto non serve e adesso ve lo dimostro guardatelo qua benissimo sono d'accordo con lei che anch'io voglio il risotto leggermente più all'onda il risotto è cotto ci aggiungo come sempre un mestolino di brodo per far sì che torni alla consistenza desiderata domande fino a qua? allora rialziamo un secondo la piastra benissimo vi ricordate la pozione magica? la riduzione di vino e cipolla? bene questo è il momento di aggiungerla perché di fatto adesso il riso sa solo di brodo non sa di niente cominciamo a incrementare il sapore quindi aggiungiamo la riduzione di vino e cipolla dosatela perché non siamo abituati a un'acidità così forte mentre mangiamo il risotto perché il vino nel nostro cervello lo mettiamo quando lo tostiamo quindi se lo sentiamo lo sentiamo molto lieve qui invece è pungente dosatelo perché altrimenti poi fate una sciocchetta un piatto non buono ecco bene adesso il risotto come sempre lo facciamo decantare lo facciamo mantecare spegnendo il fornello e tagliamo una bella fettina di guardala qua una bella fettazza qua vedo che c'è la crosta anche bella fresca non la tagliamo e tagliamo a pezzettini la nostra formagella hai scelto una formagella di maglia giusto Andrea? latte di capra bella profumata perché comunque volevo dare un bel tono un risotto molto semplice in verità volevo farvi vedere la tecnica poi che ci mettiate un tipo di formaggio un altro l'importante che sia di eh lo so signora chi piace poi facciamo anche la pasta così chi non gli piace facciamo anche la pasta metto d'accordo tutti e poi tra mezz'oretta facciamo anche la pane con un po' di cremina abbiamo risolto tutto poi qui è zona anche di formaggi grattugiati pazzeschi ci mettiamo il nostro trentingrana gli mettiamo il nostro pugnetto di formaggio mi sembra bello abbondante il formaggio dà sapore e mantechiamo mantechiamo cosa significa? spegniamo il riso anche perché altrimenti diventa troppo bollente ecco adesso è un po' troppo gnocco li aggiungiamo con un goccino di brodo tic queste sono le fasi più importanti perché se mettete tanto brodo diventa una piscina di acqua diventa una zuppetta di riso fa schifo qui il segreto è cercare di tenere cremoso un risotto poi se lo volete alla bergamasca dove sta in piedi il mestolo lo tenete molto asciutto se invece lo volete leggermente più cremoso all'onda come si suol dire aggiungete un po' più di liquido guardate la formagella come sta cominciando a sciogliere si forma questo profumo pazzesco di montagna intanto possiamo citare i nostri produttori che hanno fornito queste specialità in particolare per la formagella la meta azienda agrituristica e ovviamente trentingrana di latte trento che è ricordiamolo un adotto guarda come si sta sciogliendo avete visto? ecco mi chiedo il famoso pezzettino di burro in questo caso mi sembra molto cremoso quindi sono d'accordo con te se abbiamo un bel burro di malga che sa di erba che sa di formaggio bravissima signora sono d'accordo con lei la capra non a tutti piace se non piace la capra usa il latte vaccino e me che non piace il formaggio la capra in me per esempio la mangia bravissima lei usa il latte vaccino signora ci sono i fior fior di produttori io ho usato la formagella di capra per dargli un gusto più mio se non le piace una cosa tipo se lei non piace il carnarolico al chicco grosso userà il violone nano al chicco piccolo questione di gusto signora mi giuro che non c'era malizia in questa cosa che ho detto io dai torniamo a noi dopodiché qui se volete aggiungersi qualche vero mi ha sindacato il chicco piccolo il chicco grande sono rovinato no scherzo qua il risotto ormai è pronto nessuno può dirmi che non è un risotto mantecato guarda il formaggio come si sta lasciando queste sono delle formagelle straordinarie però guardate così fresche che si sciogliono in un secondo che fanno questa cremina pazzesca poi l'impiattamento è molto semplice prendiamo un bel mestolino e lo mettiamo al centro del piatto un piccolo segreto io ricordo mio padre quando tornava a casa dal lavoro stanco affamato tornava a casa mia mamma faceva il risotto che non so tipo lo zafferano tutti a tavola mio padre a capotavola andava a lavarsi le mani arrivava ancora vestito dal lavoro se sedeva con i rebbi della forchetta entrava cattivo e poi partiva il bestemmione perché si ustionava la bocca perché è una fondina un piccolo trucco è perché il risotto essendo molto cremoso la temperatura quando lo tirate fuori dal fornello è altissima è un po' come l'ustione della crema pasticciera l'ustione di acqua bollente la crema pasticciera ha una temperatura molto più alta perché ha una consistenza è cremosa rispetto quindi il risotto è cremoso ti ustioni quando lo mangi quanti di voi quando mangiano il risotto poi tirano via la pelle dal palato fanno così capita spesso un piccolo trucchetto è quello di anziché usarla a fondina usare un piatto piano batterlo in modo che la superficie del risotto diventi più ampia e si raffreddi più velocemente con i rebbi della forchetta anziché sgommarlo sui lati della fondina cominciate a mangiarlo intorno abbiamo imparato un po' a vederlo questo Andrea nell'impiattamento che vediamo in televisione e invece ha anche una funzione salva vita salva palato ma sì diciamo che tante cose poi noi non le diciamo ma hanno un aspetto tecnico non è che lo facciamo per fare i fighi noi teniamo nei ristoranti i piatti caldi perché secondo piatto caldo pietanza calda questa è un po' la regola perché altrimenti il piatto freddo come in questo caso rischia che diventi freddo subito il piatto comunque sapete qual è il miglior modo per vedere se questo risotto è mantecato? cosa significa girati pure verso di me cosa significa mantecato? significa che tutto il brodo si è unito all'amido al formaggio ha creato una cosa unica i risotti non mantecati lasciano andare un po' di acqua non sono mai perfetti sapete sapete qual è l'unico modo? ragazzi non mi è mai uscito così duro un signor risotto direi bianco candido cremoso con i sapori di queste zone aiutatemi un po' a romanzarlo un po' beh sicuramente il formaggio dal peggio ha un sapore inconfondibile ecco usando poi quello di capra perdonatemi se fosse stai qua nel piatto se fossi ancora dalla Clerici la mia decorazione stellata sarebbe questa prendo una bella fetta di formaggio eccola qua perché a noi ci piacciono queste cose intanto grazie chiedo aiuto alle autorità hanno riaperto la fabbrica del 42 non ho fatto niente sono qui pagato con la fattura e col contratto dell'azienda non ho fatto niente ma perché sono in ritardo no sei giusto giusto in tempo vedi Stefano buttato stai prendendo il sole lì non so a Tione col sole no diciamo ai nostri amici che magari domani non sanno cosa fare di venire a fare un giro a Tione siete d'accordo? non tutti insieme che ansia però stess sì anche perché le degustazioni poi continuano ricordiamo che dopo il live cooking di Andrea Mainardi ci sono c'è la per il pranzo la per il cena organizzati e che vedono protagonisti proprio i ragazzi dell'alberghiera sì che sono qua che non vedo loro iniziare a a sbaraccare fate festa stasera ah bravi si lavora sabato la domenica spieghiamolo a questi ragazzi eh grandi professori allora do una sistemata zero secondi e ripartiamo subito con la pasta perché ovviamente anche qui distruggo 250 anni di tradizione cosa facciamo Andrea cosa dici posso fare uno spoilerone e andiamo a vedere gli ingredienti della prossima ricetta spoiler partiamo subito via allora la prossima ricetta si tratta sempre di un primo piatto con un abbinamento che abbiamo imparato a conoscere ad apprezzare che vede un salume tipico a Trentino che è lo specca affiancato dalle mele che sono un altro dei prodotti che in Trentino sicuramente la fanno da padrone ma sto sbaccando con l'orario a questo ora dovete essere già tutti a pranzo ma ci vuoi seme in ardi ragazzi dai bravissima la fame sicuramente arriva vedi Andrea l'orario è quello giusto allora dai partiamo subito qua sul tagliere così vi libero in fretta ci sono i ragazzi che facciamo la degustazione poi andiamo a fare un giro con tutti i produttori allora accendiamo il fornello andiamo a chiedere a una signora che non ha ancora parlato che vuole che vuole portarsi a casa cosa c'ho qua c'è di tutto e di più ah una crema di castagna straordinaria dai vai a intervistare una signora che si vergogna un po' e chiede come si fa a fare una classica pasta asciutta l'ho individuata l'ho individuata eccola qua signora io non sono una grande cuoca non serve basta aver passione signora la pasta è di norma a casa come la facciamo tutti i giorni mettiamo a bollire l'acqua assolutamente tanta acqua anche se la pasta è poca signora è testimonia di qualche sorgente no chiedo chiedo per il mio cugino anzi l'acqua costa in Trentino va dappertutto signora che breccia comunque mettiamo l'acqua mettiamo facciamo bollire bene l'acqua e quando bolle mettiamo la pasta 80 grammi per ogni persona signora mi vede io faccio il cuoco non faccio il tronista quindi mi dia qualche gramma in più se no non arrivo a sera bravissima lei fa giustamente 80 grammi a testa dipende dal menu che fate dai oggettivamente esatto la mettiamo secondo prendiamo una pasta con di buona qualità abbiamo in Trentino per esempio la pasta Felicetti e possiamo consumare quella e poi abbiamo anche penso che abbiamo anche della pasta con il mais che potrebbe essere di qua e la mettiamo a bollire secondo i minuti che ci dà l'indicazione della pasta che questa è una cosa penso importante bravissima e questo per quanto riguarda la pasta parliamo del sugo il sugo si può fare in tantissimi modi eh lo so signora e magari ci dà una ricetta lei adesso facciamo un pomodoro rapido come lo farebbe lei il pomodoro il soffritto con la cipolla sicuramente pomodori se ci sono dell'orto se uno ha fatto la conserva se no li prende anche quelli di buona qualità fermi dov'è che potrebbe prendere i pomodori ma direi al nostro mercato contadino risposta ah ma se tu l'hai detto il premio il premio lo vinci anche tu prima adesso prima poi glielo porti la signora ma sicuramente qua abbiamo dei prodotti in queste valli con una maturazione poi quest'anno c'è stato anche il sole e sono arrivati anche a maturazione anche qui non in sud Italia però ma a casa come si combina il sugo con la pasta in che senso prima si fa la pasta giusto e lo tiene comunque al punto anche a cottura quando è a cottura il pomodoro si salterà la pasta un po' alla fine di solito a casa si fa così bravissimo sono d'accordo adesso vieni qua poi prendiamo il premio e noi diamo la signora siete tutti d'accordo insomma facciamo bollire l'acqua buttiamo la pasta nell'acqua facciamo il sugo quando la pasta è cotta buttiamo la pasta ciao a tutti e grazie i più fighi tengono un bicchiere di acqua di cottura per allungarla leggermente insomma pazzone ma questa è come si fa la pasta asciutta classica in Italia corretto? io ho aperto anche ai tempi d'oro due ristoranti in America e devo dire che la pasta non era proprio cucinata come la cuciniamo noi ma io voglio darvi una nuova una nuova idea avete visto che io l'acqua non ce l'ho sto usando solo in questo caso una padella che si chiama wok ho messo olio ho messo del porro e ho trovato dei porri biologici davvero straordinari qua a chilometro zero quelli piccolini belli profumati dolcissimi con queste potete fare serata poi ok quindi accendiamo al massimo la piastra prendo una mela che ho tagliato ecco che ho lavato perfettamente insomma siamo in Trentino e quindi mela Andrea va bene qualsiasi tipo o è meglio scegliere allora in questo in questo caso ho scelto una mela tendenzialmente comunque di pasta con una pasta molto molto dolce ecco e la tagliamo a pezzettoni in modo che mi dia un po' di sostanza poi nel piatto non userei mele piuttosto acide come graine le mele verdi anche perché in questo caso una ricetta poi rischiamo di sbilanciarla dal punto di vista del gusto quindi soffritto con questo porro dolce la mela e poi ovviamente non poteva mancare lo speck prendiamo qualche fetta e la tagliamo ti sposto tutto così sia bello comodo e lo tagliamo a listarelle fin qua tutto bene giusto? è un sugo sicuramente molto ricco molto saporito molto profumato si dice che i migliori sughi siano quelli che si preparano nel tempo di cottura della pasta tu come la vedi? non la vedo proprio così perché se parliamo di un grande pomodoro io il pomodoro lo faccio cuocere almeno 4 ore che sono le classiche conserve o si fa un pomodoro fresco allora in un minuto pronto però insomma ci sono dalle nostre parti ci sono i salmi di selvaggina che ci metti almeno quasi 5 ore a cucinarlo dipende un po' da quello che si vuole fare anche il classico ragù richiede parecchie ore bravissimo quindi un sugo espresso sicuramente col tempo della pasta sono d'accordo con te ma un grande sugo al pomodoro secondo me deve cuocere almeno 4 ore in modo che perda tutta l'acqua e si addensi il sapore e si concentri il grande sapore del pomodoro perché è così che diventa molto buono allora quindi guardate qua questo è un bel soffritto potrebbe essere anche il ripieno di uno strudel salato però oggi facciamo una pasta anche perché mi hai dato un'idea mi sa che sul blog farò una cosa del genere qui abbiamo dei prodotti comunque sono prodotti molto versatili quindi la mela voi mi insegnate che sta bene sia in un piatto dolce ma anche in un piatto salato tant'è che spesso nei soffritti del pollo il famoso pollo al curry vai dal mio amico che mette la risposta sbagliata adesso eh sì aspetta vai là direttamente con un petta tieni tu sai già che risponderà correttamente o ha un buono? confettura di uva spina rossa ti giochi la gran serata stasera eh non rispondemi cerca su google prima di dire la fidanzata mi sta guardando malissimo allora come ti chiami? Gianmarco Gianmarco ascoltami bene ascolta Maynardi un piatto dolce con la mela torta di mele torta di mele bravi risposta salata attenzione un piatto salato risotto mele corgonzola fantastico signore ce l'abbiamo facciamo un applauso Gianmarco è meritato il brand allora adesso mi potresti riprendere la faccia della signora che c'è inglesia? bravo guarda la faccia adesso della signora è per scherzare e poi si guadagna un bel premio mi sta guardando già malissimo malissimo signora l'ha già vista mi inquadri questa signora un secondo per cortesia la voglio bella fammela bella un po' Barbara D'Urso un po' di luci per cortesia guardala qua no più da questa parte meravigliosa signora stia lì guardi il money ah strega aspetta vengo io no no vengo io se no non si capisce chiedo scusa ai miei amici di facebook mi devo fare una roba dall'amante alla signora inquadrate la faccia della signora instagrammatela perché con questa ve la giocate per altri 250 giorni allora fin qua tutto bene giusto? sì buono buono saporito guardi un attimo la telecamera che è quel bel ragazzo è la single quello dietro o questo davanti? no quello davanti il mio manager Jimmy Dione me lo tenga qua buono perché è sposato quello da dietro è single mi sembra va bene? va bene? sì ok guardi signora cosa faccio cosa fa? faccio vedere metto la pasta secca nella padella secca così eccola si sta incazzando guardate Stefano si è entrato davanti alla telecamera guardate no no apprezzo la cosa nuova no no a lei piace la pasta al dente? eh diciamo che vedi più al dente così non potevo signora non è cotta però vedo che lei dei bei denti perché altrimenti se avete delle capsule io ve le faccio saltare tutte perché c'è la convenzione col dentista di Tione se salta con la capsule insomma non sappiamo dove andare bravissima ma signora guarda cosa combiniamo oggi ecco appunto ho spaccato i pantaloni di seta dalla signora no non è vero allora cosa ne dice? sì intanto il sugo è molto il sugo sicuramente il sugo è un profumo molto buono no il profumo è ottimo e la pasta è piuttosto al dente direi bene grazie signora facciamo un applauso alla signora è rimasto veramente è un gran profumo Aurora eccomi come nel risotto non può mancare il vino in una pasta del genere secondo me non può mancare la birra l'apro un po' come si faceva al militare con l'accendino però in verità con la cucchiaia la faccio prima una bella birra artigianale del birrificio Valchiese buttiamo un bel bicchierino di birra nella padella alziamo al massimo il fornello questa è una piastra ma facciamo un po' come la storia del vino con il risotto il resto ce lo beviamo? assolutamente sì posso prendere la bottiglia e poi lasciarla allora guardami bene aspetto a salare perché comunque a parte il formaggio che metterò dopo c'è lo speck comunque che bello saporito aspettiamo a salare la pasta cruda ho messo ho fatto qualsiasi tipo di sugo voi facciate io ho buttato dentro la pasta cruda adesso c'ho qui del brodo caldo uso questo potrei usare anche dell'acqua usiamo dell'acqua come fate voi a casa me ne frego della bottiglia bella fredda sto distruggendo tutto quello che sappiamo sulla pasta asciutta guardate non inquadrami il pacco perché sennò abbiamo un problema ragazzi adesso piano piano comincia a cuocere io sento un po' di mormorio eh sull'acqua eh lo so ma certo signora l'acqua con cosa cuoce la pasta lei chi ha mormorato con cosa cuoce la pasta e uso l'acqua chi è che aveva qualche dubbio è legittimo no? non è tanto usuale vedere la pasta bravissima signora ah lei stava opinando l'acqua dalla bottiglia fredda brava ascolta ascolta Iva sei sempre tu ormai sei la mia fidanzata infatti è saltata la piastra meravigliosa accendiamo quell'altra non succede niente raga ci pensiamo in arti non avvisate i nostri divenici del viso del fuoco che ho già visti ci hai fatto amicizia apposta di la verità si è saltata sento d'odore di strino ma va tutto bene ehm o sto usando la padella bassa e larga come nel risotto perché anche se non avessi il brodo perfettamente caldo o se usassi estremizzando io sono qui ovviamente a darvi delle idee e a fare anche un po' di intrattenimento cioè un po' più deficiente però voglio farti vedere che riesco a portare a casa un grandissimo risultato anche trattando malissimo in questo caso ovviamente con l'acqua calda ci mettete meno tempo a cucinarla eh ma blocchi la cottura proviamo a vedere se riesco a tenere comunque la pasta al dente sto estremizzando al peggio una cosa che si fa forse infame chimica la sera se arrivi a casa tardi però se il fornello adesso funziona si si sta sbollicchiando ecco sei d'accordo con me che se dovessi fare la pasta in una casserola stretta e alta ci metterebbe molto più tempo invece come nel risotto padella bassa e larga innanzitutto ti ricciamantecarla molto meglio ovviamente a livello casalingo a livello professionale qui ragazzi facciamo fatica se no i fornelli hanno 2400 pentole e padella faremo fatica questa è la famosa pasta risottata cioè tratto la pasta come se fosse un risotto adesso ovviamente qui non si è fatto stare ma indipendentemente un bel sugo al pomodoro un bel ragù ci buttate la pasta secca ci buttate gli gnocchi ovviamente gnocchi o pasta fresca all'uovo ci mette pochissimo tempo quindi non dovete inzupparla di acqua questa è la tecnica state molto attenti poi ho finito di rompervi le scatole per oggi l'unico errore che potete fare per fare una pasta del genere è il fatto potrebbe essere quello di metterci troppo liquido se mettete troppo liquido la pasta sarà cotta in un brodo di ragù in un brodo di e e diventa uno schifo quindi dobbiamo essere intelligenti a mettere la quantità di liquido di acqua necessaria per arrivare a fine cottura questa pasta vostra ha almeno 12 minuti di cottura e la pasta assorbe circa 2,5 forse un po' meno di acqua quindi il segreto è mettere l'acqua che copre la pasta e accendere al massimo il fornello eccolo là adesso che funziona piuttosto se la pasta è ancora cruda quando è cotta aggiungiamo ancora un mestolino non fate il contrario gnocchi per i ragazzi avete il ragù già pronto in freezer e quant'altro perché conosco le tecniche delle signorine mettete il ragù in una padella gli gnocchi che ho comprato al supermercato che li fate voi non voglio sapere niente li buttate direttamente nel ragù nella salsa al pomodoro con un po' di basilico un mestolino di acqua perché tanto ci mettono poco appena prende bollore loro tirano e via e la domanda che io ti faccio Eva è questa prima che mi mandi a quel paese secondo te adesso che siamo qua insieme a fare due risate è più saporita una pasta che è stata cotta nell'acqua del rubinetto e buttata nel sugo o una pasta che è stata cotta direttamente nel sugo beh certamente nel sugo però voglio sapere poi alla fine la cottura com'è bravissima è al dente è come Dio comanda o perché questo è il punto allora sono suonate le campane è partita la sirena è arrivato il sole che sta sbattendo dritto ai ragazzi adesso arriverà anche da te la cottura per me è una cosa guarda si ma in caso si faccia guardare in un minuto si ma che gli fammi vedere il Rolex che hai ste calma a tionese la passano bene però qua ragazzi no scherzo sono d'accordo con te però partiamo un passo indietro siamo sono carichi là la banda siete d'accordo che una pasta cotta nel sugo è più saporita rispetto a una pasta cotta nell'acqua e buttata dentro nel sugo e allora perché cazzo sono 50 anni mi faccio signore mi faccio sporcare una pentola in meno e vi regalo anche la bici cambio Shimano come che dirà la pubblicità sai Andrea che è la prima cosa a cui io ho pensato uso solo una padella brava visto che parliamo di eco fiera food experience cerchiamo di ottimizzare guardate però oggettivamente Iva hai visto come lo spec sicuramente lascia andare tutto il suo sapore il porro guarda come sta diventando un tutt'uno e poi torniamo al discorso perché sono partito dal riso prima perché torniamo al discorso della pasta del riso prima la pasta contiene amido quando butti l'acqua domanda bellissima c'è la spressa qua lo regalo solo tirate via i telefonini lo regalo solo che mi risponde in modo rapido occhio il sale lo mettete prima o dopo la cottura e perché? perché se non è troppo comoda dopo lei ha già vinto la signora alzata di mano chi ha già vinto magari lei lo mette alla fine perché? ma perché si rovina su tutto per me insomma per il sapore per dare più sapore sì però se mette il sapore se lo mette prima lo mette dopo è sapore se lo stessa prego mi sono sorda no signora guarda facciamo un applauso a noi dai insomma siamo qua a romperci le scatole abbiamo finito cerchiamo di capire anche il perché voglio darvi anche due spiegazioni così la prossima volta che le vostre amiche bimbi vi fanno delle domande sapete rispondere tac dai perché si mette il sale prima o dopo e perché? vedo già che qualcuno sta già googolando vedo lì il signore col bicchiere di vino che è già al terzo lo vedo bello carico andiamo lì questa è la zona che piace a me questa la sento i belli ruspanti qua anche se è una puttata va bene lo stesso dopo doppietta lei signora scusi no complimenti dopo mi dimmi perché perché prima magari lo assaggio visto che c'è lo spec capisco a che punto sono di salatura questa è la pasta che sto facendo io la pasta che fai a casa tua l'acqua la sali prima o dopo? prima di solito quando bolle butto il sale bravissimo ma perché? questo è il problema perché si scioglie prima visto che bolle aumenta il punto di ebollizione la temperatura sentiamo sentiamo quindi lei l'ha appena letto su wikipedia perché t'ho visto ma adesso se me lo spieghi se me lo spieghi bene aggiungendo il sale aumento il punto di ebollizione dell'acqua quindi la pasta cuoce meglio no cazzata hai letto sulla prima riga ma ti mancava la seconda secondo me anche ci sei quasi ci sei quasi attenzione le autorità ragazzi no no attenzione che io non si può dire prima che mi fate poi la 1 ci sono anche i suggerimenti mi sento un po' a scuola beh insomma no adesso sto facendo lo stupidino con voi ma perché voglio veramente darvi una roba il problema che abbiamo noi in alta quota è che certi tipi di di pietanze tipo i fagioli e così vengono meno bene perché essendo in quota la temperatura dell'acqua bolle ad una temperatura inferiore questa è dinamica dei fluidi eh tac ragazzi non parlavo con il mio professore di chimica dall'83 allora quindi aggiungendo il sale aumento fin qua ci sei allora aggiungendo il sale la temperatura di ebollizione dell'acqua che solitamente è a 100 gradi l'acqua bolle a 102 punto qualcosa ci metti ci metti più tempo a far bollire l'acqua perché far bollire un'acqua che bolle a 100 gradi ci mette 5 minuti far bollire l'acqua che bolle a 102 punto 3 ci metti 20 secondi 50 secondi in più quindi se metti il sale prima l'acqua non bolle più puttanate però ci mette più tempo su questo siamo d'accordo quindi il sale nella pasta mia mamma sapete cosa mi risponde quando faccio queste domande il sale lo butto prima altrimenti poi me lo dimentico e ci sta parliamo proprio di una cosa chimica di una stupidaggine che però voglio dirvela se mettete il sale prima nell'acqua la pasta l'acqua ci mette un po' di più a bollire dopodiché quando bolle che sia in alta cuoca è in alta cuoca in alta quota ale Maldiva o formentera la temperatura pura di ebollizione è quella magari ci mette un po' di più perché c'è un po' più freschino però ecco se sei d'accordo con me che mettendo il sale aumenta leggermente la temperatura di ebollizione ci mette un po' di più a cuocere prendiamo i pacchetti per i ragazzi con questo mi sei piaciuto comunque grande prof lo portiamo al CFP con noi prof di chimica nel frattempo la pasta sicuramente mi sta attaccando perché io poi faccio il figo poi io prendo un po' eccola qua la prova ecco qua un ottimo miele di mille fiori di montagna dell'apicoltura i sapori dell'alveare ovviamente tutti gli omaggi che abbiamo distribuito durante la live li trovate e li potete acquistare negli stand gastronomici allora sì ma adesso appena abbiamo finito poi sono i ragazzi che cominciano a cucinare e io vado a fare un giro tra i miei produttori e cominciamo ad andare a assaggiare i vari prodotti del posto bene Alessandra stai seguendo ti vedo bella carica buttava ma è mai in vacanza ci siamo quasi Iva ci mette leggermente di più rispetto alla pasta cotta nell'acqua e buttata dentro nel sugo ci mette circa il 30% in più di tempo quindi bisogna avere un po' di pazienza baratta con me una pentola in meno meno energia elettrica ma in questo caso guarda l'acqua che ho messo come pian piano sta diventando come l'acqua del risotto comincia a densare un po' no l'amido che la pasta ha rilasciato che è quella famosa schiuma che vedete nella pentola di pasta quando scolate nel lavandino è quella che io tengo qua dentro vedi ti dà l'idea di una pasta già più saporita e spesso quando si utilizzano degli ingredienti magari colorati la pasta addirittura assorbe il colore degli ingredienti che ho messo tipo qualche pistillo di zafferano se dovessi fare una pasta con i funghi in questo modo la pasta diventa quasi marroncina quindi cotta nel risotto fatto con l'acqua sa di niente un risotto fatto col brodo è più buono una pasta asciutta cotta nell'acqua ti affidi totalmente al sugo una pasta cotta nel sugo sicuramente è più performante dovete solo stare attenti alla quantità di liquido perché se ne metti troppo e la pasta è cotta come dici tu poi se a te piace al dente a me piace un po' più cotta ai ragazzi una via di mezzo è una scelta nostra stai attenta semplicemente al liquido perché è l'unico errore che si può fare con questa tecnica adesso voglio vedere quando la rifate a casa ho il risotto questo taggate taggateci quali sono i tag giusti i tag giusti per taggarci ecco fiera punto tione aspetta che non sento campiglio dolomiti ed ecco fiera punto tione taggateci che poi vi ritagghiamo tutti quanti eccola qua ci siamo adesso per mio gusto personale voglio metterci guardate che roba pazzesca no non è burro è caprino questo ci mettiamo due bei pezzetti di caprino che facciamo sciogliere voi immaginate la cremina spec il porro le mele il caprino che si scioglie adesso farà una cremina straordinaria guardate che pasta pazzesca vi ho fatto in un attimo cioè in un attimo qualche minuto se voluto vi ho tirato una pezza pazzesca il caprino lo ricordiamo è stato fornito dalla meta azienda agrituristica ecco metà lo metto nella pasta l'altra metà me lo spammo sul mane così abbiamo risolto tutti i problemi facciamo tirare facciamo tirare bene tutto il sughetto adesso stiamo affumicando la nostra telecamera si sente anche sfregolare vi è proprio appetito eh Andrea eh sì perché ovviamente non c'è più il suono dell'acqua che bolle ma c'è il cominciare adesso cominciare a densare qui state solo attenti a non farla attaccare avete visto che io sia nel risotto poi ho finito giuro avete visto che sia nel risotto che in questa pasta risottata ho utilizzato delle padelle antiaderenti perché spesso io magari vengo in mezzo a voi a parlare me la dimentico e anche voi magari a casa in questo modo non utilizzate mai roba d'acciaio che potrebbe grattare il fondo della padella ma così evitate che si attacchi e questo è un modo straordinario per fare una pasta di qualsiasi gusto e anche tipo negli gnocchi fate molto più in fretta che buttate dentro gli gnocchi dentro qua o una pasta all'uovo buttate dentro la pasta all'uovo poca acqua meno acqua rispetto alla pasta di semola di grano duro e ci siamo quindi il consiglio sia per il risotto che per la pasta è quello di utilizzare una padella piuttosto ampia bassa e larga in questo caso una wok qua si facciamo tranquillamente quattro porzioni bastava metterne un po' di più grazie al prof che è andato a prendermi la fondina anche se gli ho detto che mi sarei arrangiato allora stai pure dentro qua l'impiattamento di Mainardi vent'anni fa prima di conoscere la Clerici dov'è la mela vedete che la mela si è sciolta niente la mela era talmente morbida che se ne è andata eccola qua trovata fermi eh l'impiattamento importante 50 euro vabbè io ho un ristorante con un solo tavolo ti faccio 12 portate e stringo le porzioni non un fusillo però poco ci manca ma se dovessi mangiare solo una porzione come mi ha insegnato Antonella Clerici sapete l'impiattamento com'è la fondina sparisce signori e signori la pasta risottata bene grazie a tutti grazie allo chef per tutti i suoi segreti di cucina che siamo sicuri metteremo in pratica quanto prima adesso vi invitiamo naturalmente a restare e ad iniziare quelle che saranno poi le degustazioni realizzate dall'istituto Enaip dalla sezione di alberghiera con i ragazzi che hanno strutturato un menù davvero prelibato ricordiamo che c'è sia per il pranzo che per la cena e ovviamente il tutto prosegue anche nella giornata di domani io quasi quasi mi immolo faccio io il sacrificio Andrea io una forchettata anche quel risottino di prima dove l'hai messo e lì sarà leggermente freddo adesso lascia mi fare la fotografia al piatto che la decoro un po' e ci siamo adesso mi fermo a fare la fotografia e adesso arrivo signora faccio la fotografia con lei anche perché devo poter dire alla signora se effettivamente la pasta è al dente o no mi assumo questa responsabilità intanto magari ricordiamo il menù che sarà a seguire della scuola alberghiera del centro di formazione professionale ENAIP di Tione che consiste in una serie di portate davvero gustose complimenti una sfogliatina di strudel salato con ortaggi bio del nostro mercato contadino che vi invitiamo ad andare a visitare spuma di formaggio caprino panna cotta al latte trento e trota affumicata alto sarca tortino soffice dispressa ad op delle giudicarie e rapa rossa a seguire gnocchetti con puntarelle d'ortica con sfilacci di carne salada a qualità trentino e noci del bleggio trasparenza con cremosolo yogurt frutti di bosco e crambola farina gialla di storo incluso poi nella degustazione in abbinamento c'è un calice di vino oppure una birra artigianale trentina ovviamente è anche un analcolico per chi desidera quello un analcolico non come quei famosi cocktail che avevi preparato e di cui ci raccontavi prima vuoi che magari mi dai un po' di fiorellini togli il microfono prima che ti capa adesso ecco Andrea che sta ultimando il piatto con qualche dadino fresco di formaggio di capra vuoi fare qualche saluto ricordiamo che è importante ovviamente per un piatto ben riuscito non solo avere chiaramente un prodotto prodotti di qualità con cui si è cucinato una buona cottura ma anche l'impiattamento ormai si mangia anche un po' con gli occhi ecco il chef grazie maestro maestro sei te no no voi ti fate un colpa a testa insieme anche ai ragazzi questo è pronto che il piatto è stato ultimato allora cosa hai aggiunto Andrea qui in più un po' di colore ecco un'azienda qui del mercato che potete andare a visitare produce anche fiori che possono essere mangiati ringrazio la nostra diretta si vieni anche tu ok allora ringraziamo gli amici che ci hanno seguito anche nella live questi sono i piatti preparati dallo chef non ci resta che assaggiarli ciao alla prossima una foto insieme a tutti i ragazzi con i piatti e lo chef di qua allora facciamo venite qui ragazzi sto microfono no non ci resta Grazie a tutti.